vegan è una parola inglese data dalla contrazione di non diary vegetarian l'alimentazione vegana infatti è un'alimentazione vegetariana che rifiuta ogni forma di prodotto animale tradizionalmente i vegetariani non consumano carne né pesce ma uova e latte sì mentre i vegetaliani non consumano né carne né pesce né latte né uova ma il miele sì i vegani invece non consumano nessun alimento di derivazione animale la carne il pesce i molluschi e i crostacei il latte i latticini le uova e neanche il miele e tutti i prodotti delle api questi alimenti vengono evitati anche come ingredienti nei prodotti da forno preparati con strutto latte uova nei dolci con burro latte o panna nella pasta all'uovo e nel brodo di carne i vegani puristi evitano di indossare anche indumenti tratti da componenti animali come la pelle la pelliccia o anche la lana e la seta non indossano e non dormono con il piumino e non acquistano oggetti di arredamento fatti con componenti animali come l'avorio l'osso o anche la pelle o il pelo di animale i vegani ovviamente non partecipano né sostengono attività come il commercio di animali domestici la caccia la pesca la sperimentazione su animali o gli spettacoli e le competizioni sportive con animali insomma il veganesimo difende il principio della non violenza sugli animali quindi non è solo un'alimentazione ma uno stile di vita etico che prende posizione contro l'uccisione sistematica e lo sfruttamento di tutte le razze animali la FAO calcola che ogni anno vengano sfruttati e uccisi circa 60 miliardi di animali e forse la loro vita non è proprio totalmente indispensabile per la nostra cosa ne pensate grazie